Ancora una notte, quella tra sabato e domenica, trascorse nella trincea dell'emergenza. Il maltempo battente ha dato un po' di tregua, ma poi ha ripreso nuovamente a martellare larga parte del regino, colpendo ancora in maniera insistente la zona dello stretto e tutta la provincia. Il risultato è stato che le tante ferite aperte in un territorio fragile, al quale la mano dell'uomo ha troppe volte dato il proprio contributo, si sono immediatamente riaperte, e in alcuni casi, in maniera dolorosa, e gran lavoro dunque per le squadre di pronto intervento del comando provinciale e di alcuni distaccamenti dei vigili del fuoco per le unità tecniche dell'ANAS e della città metropolitana, per la protezione civile regionale e comunale, per i comandi di polizia locale e di diversi centri coinvolti nella gestione dell'emergenza. Interventi condotti a volte in condizioni quanto mai difficili, secondo quelle che erano le diverse priorità che con l'alternarsi dei vari fronti caldi sono stati di volte in volte individuati al tavolo della Prefettura di Reggio Calabria, che ha coordinato il lavoro sul campo avviando nel contempo, già dalla mattinata di sabato scorso, una costante azione di monitoraggio. Certamente il fronte che ha destato maggiore apprezzione è stato quello della strada statale 18 tra Bagnare e Scilla, all'altezza di Favazzina, che nel pomeriggio di sabato scorso è rimasta interrotta a causa di uno smottamento. Intanto si segnalano danni soprattutto all'agricoltura, anche nella Locride e soprattutto in provincia.